Sono Laura Antichi, vi voglio presentare Flashcard Machine per creare, studiare e condividere Flashcard. Vi dovete registrare al sito flashcardmachine.com, dopodiché vi loggate e andate in My Flashcards e cliccate su New Flashcard Set. Potreste anche voler creare un New Folder, una nuova cartella dove mettere le vostre Flashcard. Vado direttamente in un Flashcard Set, il titolo è un titolo prova EAS, la description è corso Anitel, in questo caso. Il subject, la categoria, mi dà da scegliere e io scelgo Education. Il livello, cioè vado a scegliere il grado, poi mi dice se voglio salvare questo set nella Flashcard Library. E' disabilitato, come vedete di default, lo lascio tale quale, vado in Advanced Sharing Option. Vedete che è disabilitato, la condivisione è privata, la abilito e in questo caso perché è una prova, poi potrei abilitare invece il Collaborative Editing, Save Set Detail. Questo, salvo di nuovo, vado in Quick Editor e comincio a creare le mie Flashcard, la prima sarà EAS e la definizione sarà Episodi di Apprendimento Situati. Mi dà la possibilità di aggiungere un'immagine. Io ne avevo già messo una nella Library, quindi metto quella, Add Another, potrei mettere fase preparatoria per la seconda card. dare una definizione di quello che si fa, scriverò Problem Setting. Ho la possibilità di aggiungere un'immagine, posso cercarne una tra le mie immagini uploadate, per il momento trovo questa e metto questa, poi aggiungo un'altra Flashcard, sarà fase operatoria. e quindi l'attività è il Learning by doing. Anche qui potrò aggiungere un'immagine, la Flashcard, questa volta la vado a scegliere, New Image, la scelgo dal mio browser e potrei scegliere come immagine questa. faccio upload e quindi la mia terza card è creata, ne aggiungo un'altra, fase ristrutturativa e metterò Reflective Learning, anche qui potrò aggiungere un'immagine, scelgo New Image, scelgo dal mio browser, aggiungo questa immagine, apro, upload, ok, posso aggiungere un'altra card, Designate, qui scriverò fare esperienza, aggiungerò un'immagine, New Image, Scegli immagine, scegli immagine, e potrei mettere questa, immagine, apri, upload, posso aggiungere un'altra card, card, designing, posso fare analizzare, scrivere analizzare, applicare, aggiungere, aggiungo un'altra immagine, magari, ehm, scelgo una New Image, scegli file, sceglierò questa, apri, ok, ok, vado ad un'altra flashcard, pre-designed, e scriverò, discutere, discutere, pubblicare, aggiungo un'immagine, New Image, scegli file, vabbè, metterò questa, apri, upload, ok, e quindi ho finito di fare il mio set di card, faccio save, ok, questo è il mio set, qui era venuta una, qui era venuta una, ok, save and exit, e così ho creato il mio set di card, avrei anche la possibilità di, comunque, cancellarlo questo set. Ora vado a provare le mie card, start session, come vedete, questa è la prima card, che è EAS, flip, che mi dà il retro della, della card, vado alla seguente, fase preparatoria, quello che c'è scritto dietro, il problem setting, vado alla successiva, operatoria, ok, e vedete il, learning by doing, vado alla, quarta card, designed, flippo, e mi dà, eccetera, eccetera, quindi questa era, eh, praticamente la, sono le mie, eh, flash, eh, card. In, eh, my set, eh, trovo il, eh, il mio gruppo di flash card, clicco sopra, e, eh, posso, eh, scegliere, diverse opzioni, di, ehm, ehm, iniziare una, eh, uno, una sessione di studio, delle carte, play a game, review, rivederle, eh, stamparle, ed esportarle. Allora, eh, vado in start a study session, e, eh, in, eh, mi chiede se voglio fare l'autoflip o no, per il momento, eh, no, e, come vedete, mi ritrovo nella, eh, situazione precedente, di visualizzazione di tutte le flash card, eh, che ho, ehm, in, eh, random, e, ehm, che posso flippare. Ok. Come ho fatto prima, eh, chiudo, e, eh, 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 vado, eh, ehm, ehm, e, ehm, right turn, to manage flash card set. Posso, ad esempio, play a game, con il play a game, eh, mi, eh, domanda, ehm, di, eh, start a game, ah, vedete che ho il, ehm, mi dà come termine il designing, ehm, ehm, il design, ehm, sceglierò come designing, analizzare e applicare, come vedete è giusto, mi dice che è corretto, vado avanti, mi chiede che cos'è la fase operatoria, era learning by doing, corretta, vado avanti, mi chiede design ed era fare esperienza, me lo dà come corretto, vado avanti, mi chiede la fase preparatoria ed era il problem setting, mi sembra di aver messo il problem setting, in sequestra, next, mi chiede la fase ristrutturativa e metterò reflective learning, giusto, corretto, e poi mi chiede redesigned e discutere pubblicare, next, giusto, e poi mi chiede EAS, episodi di apprendimento situati e quindi anche questa è corretta, vedete, quindi come definizione è corretta, buonasera